La mia prima domanda è che cos'è Solva, come è nata e a che punto siete adesso per quanto riguarda l'organizzazione interna? Allora, Solva è uno strumento che serve a depurare l'acqua del mare o acqua inquinata con solo ed esclusivamente la radiazione solare. Infatti è un prodotto che abbiamo sviluppato che attraverso l'evaporazione dell'acqua e la condensazione del vaporiamo a distillare l'acqua e quindi eliminare tutte le parti inquinanti che sono presenti in essa. E quindi a costo praticamente quasi zero perché funziona solo la radiazione solare e riusciamo a depurare piccoli quantitativi d'acqua. A che punto? Come mi è venuta? È un lungo processo, alla fine se pensiamo rispecchia esattamente il ciclo dell'acqua che ti insegnano dalle elementari. Quindi è insito in ognuno di noi che più o meno lo conosce, non che il sole fa scaldare l'acqua del mare e abbiamo la pioggia che non è salata e quindi il sale rimane nel mare. E quotidianamente quando facciamo la pasta asciutta, per esempio, noi abbiamo quest'acqua ricca di sale e il vapore che è connesso sul coperchio è invece privo di sali. E ho pensato perché non portare questo processo aumentando nell'efficienza e allo stesso tempo a posto di mettere il gas che normalmente abbiamo nelle nostre case, usare invece l'energia rinnovabile, qual è quella del sole. E da qui è nata Solva. Volevo chiederti adesso, proprio a livello organizzativo, a che punto siete arrivati nella messa in atto dell'idea? Allora, innanzitutto siamo arrivati, attualmente abbiamo costituito da pochi giorni una società, una SRL, che è Solva SRL, e dopo un lungo processo di sperimentazione che è stata iniziata tre anni fa, abbiamo creato dei prototipi che abbiamo sperimentato con l'Università Ca' Foscari di Venezia. L'abbiamo provata in Perù, allo stesso tempo l'abbiamo provata qui in Italia e ha dato dei buoni risultati e un po' alla volta è cresciuta, si è diffusa un attimo questa idea e abbiamo pensato di poter utilizzarla dal punto di vista anche di prodotto da vendere in mercato. Quindi quali sono, diciamo, le vostre fette di mercato? Cioè è una cosa umanitaria? È qualche cosa che intendete vendere nei paesi sviluppati oppure no? Guarda, era nata per un'idea prettamente umanitaria, pensavamo che i nostri clienti migliori, cioè gli unici clienti fossero delle ONG, e infatti già nel momento in cui ha cominciato a diffondersi la voce, alle sbariate ONG ci hanno chiesto dei prototipi da sperimentare, perché se non è una tecnologia nuova le persone preferiscono prima toccare e poi acquistare. Il prodotto stesso è legato in paesi in via di sviluppo perché abbiamo bisogno di un grosso quantitativo di energia solare. Allo stesso tempo però, nell'ultimo periodo, abbiamo avuto dei contatti anche da aziende locali che sono interessate per il procedimento di solva da poter trasferire a settori completamente differenti. Per esempio, al posto di depurare l'acqua in paesi in via di sviluppo, che è il problema principale, nei paesi occidentali invece è per esempio l'essiccamento di fanghi, di depurazione, con problemi più legati ai rifiuti, o lo stesso anche i fanghi da bonificare e stiamo cominciando a elaborare una ricerca in questa direzione per aprire nuovi settori di sviluppo, quindi con aziende italiane, con enti italiani, piuttosto che dei paesi in via di sviluppo e quindi aprire anche questo mercato. Parlavi prima del fatto che avete testato il prototipo in Peru. Quindi ti volevo chiedere, in maniera un po' più approfondita, qual è la reazione effettivamente, qual è il procedimento e che tipo di depurazione effettua? Perché si parlava credo di metalli pesanti per quanto riguarda il Peru. Esattamente, noi in Peru avevamo una situazione di una falda acquifera inquinata da metalli pesanti a causa di alcune sversamenti di fabbriche piuttosto che miniere e la popolazione non era più in grado di bere l'acqua che raccoglieva dai pozzi del paese. Noi siamo intervenuti con questo nostro sistema che, scendendo più nel particolare, non fa altro che attraversare una serie di scambiatori di calore ed entrare all'interno di una serra, prettamente una serra, con una vasca di contenimento al cui interno l'acqua scorre e l'effetto serra che si viene a creare insieme alla serie di scambiatori di calore che abbiamo posto permette di far arrivare l'acqua a una temperatura molto elevata, la facciamo entrare ai 20 gradi per capirsi ed esce a 80 gradi nel giro di un metro e questo crea un'evaporazione che, al posto di condensarsi nella superficie interna della serra stessa, noi raccogliamo questo vapore e lo facciamo condensare attraverso un altro scambiatore di calore, l'acqua distillata, cioè tutto ciò che evapora a temperature inferiori, al punto di evaporazione potremmo dire, e alla pressione di vapore dell'acqua, rimane sul fondo, e quindi non viene a trovarsi nell'acqua e nel vapore che noi raccogliamo. Questo ci permette di eliminare sali, come per il mare, però allo stesso tempo i metalli pesanti e altre tipologie di inquinanti che non vanno in sospensione. E quindi riusciamo a dare, fondamentalmente abbiamo visto all'intero più di 10 litri al giorno per metro quadro di serra che abbiamo costruito, a costo completamente zero, perché non richiede sostanze chimiche come normalmente vanno utilizzate per depurare l'acqua, ma allo stesso tempo non richiede energia elettrica con accompe piuttosto che altre tipologie di usi. E quindi permette appunto alla gente, una volta acquistato, di avere un sistema di depurazione continuo. Ma io ho un'altra domanda a questo punto, visto che l'acqua che viene ottenuta è acqua distillata, di fatto non si può bere così com'è, giusto? Esattamente, esattamente. Noi abbiamo sviluppato una serie di sistemi di post trattamento, dove facciamo passare l'acqua o all'interno di una specie di filtro ripieno di sali minerali che un po' alla volta vengono disciolti e quindi criminalizzano, continuiamo noi, l'acqua o nei casi migliori possiamo dire allunghiamo l'acqua iniziale, cioè l'acqua inquinata, è inquinata perché è su determinate soglie, su metalli pesanti piuttosto che, cioè determinate concentrazioni. Ecco, noi diluendola con acqua distillata praticamente riusciamo a renderla potabile sotto quel punto di vista. Abbiamo il problema quando è inquinata dal punto di vista invece batteriologico o organico e in quel caso noi invece utilizziamo quei filtri che dicevo prima. Chiarissimo. So che Solva ha anche ottenuto diversi riconoscimenti. Eh sì, diciamo che il 2011 è stato interessante. Abbiamo avuto sbariati riconoscimenti durante l'anno scorso. Dimmi qualcosa di più e dimmi soprattutto quali sono stati e quali sono stati diciamo i vantaggi che ne sono derivati. Ti dico subito, il riconoscimento forse principale, anche forse più storico, è il riconoscimento perché Solva è una delle idee per lo sviluppo dell'umanità secondo le Nazioni Unite. Siamo all'interno di questo programma che sono un pacchetto di idee che le Nazioni Unite mettono a disposizione dei vari governi per dare un aiuto alla popolazione e noi seguiamo la parte di risolvere i problemi legati all'acqua. Allo stesso tempo l'anno scorso ho partecipato al TR35 che ha organizzato la Technology Review dell'MIT e ho vinto il premio come innovatore dell'anno 2011 secondo l'MIT della versione italiana e nonché il premio nazionale dell'innovazione a Torino si è svolta la finale e abbiamo partecipato e abbiamo vinto con Solva. È stata riconosciuta un'idea interessante, nonché avevamo partecipato anche alla Startup Veneto e ci eravamo classificati tra i primi. Benissimo, quindi quali sono le prospettive per il futuro prossimo e più lontano? Guarda, noi adesso abbiamo appena costituito un SRL e l'idea principale è di sviluppare quanto più possibile, rendere interessante e poco costoso per il mercato il nostro prodotto che è Solva, allo stesso tempo sviluppare nei prossimi anni i filoni che dicevo prima cioè di essiccamento dei fanghi in maniera tale da aiutare il nostro mercato. Allo stesso tempo abbiamo già sbariate dati da riconoscimenti, sbariati i clienti che ci hanno richiesto dei progetti sono appena rientrato da Israele e a breve partirò per altri paesi e quindi cominceremo a sviluppare e installare Solva ai nostri primi clienti. Quindi mi potresti dire quali sono i numeri, diciamo, finora? Guarda, per ora sono sistemi abbastanza piccoli perché sono sperimentali. Se pensi noi dobbiamo preparare circa una sessantina di Solva per la Palestina nel prossimo mese piuttosto che altre 3-4 per il Burkina Faso, poi altre 3-4 per la Tanzania e dopodiché vedremo se già altre ONG stanno intervenendo. Abbiamo vinto alcuni bandi europei e quindi cominceremo a portarle in Senegal in Senegal e in Uruguay e a breve anche in Peru ritorneremo. Magari con un entanto più potenziato, diciamo. Sì, 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 infatti adesso vediamo perché un grosso settore che si è dimostrato particolare, potremmo dire, è le opere di compensazione, cioè il greenwashing che molte aziende attuano. In quanto, dato dai riconoscimenti che abbiamo avuto, alcune grosse multinazionali ci hanno contattato per avere come compensazione ai problemi ambientali che possono arriccare in alcuni paesi. E quindi quello sarebbe una grossa fetta nel nostro mercato e per cui andiamo. Insomma, cosa dobbiamo aspettarci da Solva nei prossimi anni? Che modifichi un po' il... beh, oddio, cosa potrei sognare? Che modifichi il modo di approcciarsi in generale alla depurazione dell'acqua o all'utilizzo dell'energia. Quindi puntare in energie rinnovabili su molti nostri problemi che attualmente per pigrizia secondo me è mentale, spesso non ci rendiamo conto dell'energia che ci circonda e che possiamo utilizzare a quello e questo è l'obiettivo della nostra vita, che cosa ci aspetta nel nostro futuro. In generale, a prescindere da noi, noi vogliamo essere un piccolo settore di questo nuovo green economy, come viene chiamata, e ci aspettiamo che Solva possa essere sempre più riconosciuta e interessante per la popolazione, soprattutto per l'acqua, ma anche per altri scopi. Paolo, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi oggi. Grazie a te, grazie dell'intervista, complimenti per il sito che ho visto, è molto bello. Grazie a te, davvero in bocca al lupo per il progetto. Va bene, grazie, ciao a tutti. Ciao.